Nel 1357 la Repubblica Fiorentina decretò l'edificazione di una terra fortificata in Val di Sieve denominata inizialmente Castel Sant'Angelo ed in seguito Pontassieve. Di quell'antica fortezza oggi permangono tre porte. Oltre a Porta Filicaia rivolta verso il fiume Arno le altre rimaste visibili sono Porta Fiorentina, oggi sede della mittente radiofonica Radio Sieve caratterizzata allora da un accesso tramite ponte elevatoio e Porta Retina che si rivolge verso Casentino ed Arezzo conosciuta anche come Torre dell'Orologio, l'unica delle tre ad aver mantenuto gran parte dell'assetto trecentesco. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!